Allora io sono venuto a Siena per battere Mirko di Febbo, il biker tanto lo so che l'ho batto. Ah, la grande. Il biker all'obbatto, adesso cerco Mirko di Febbo io. Ah G, mi sto a sentire male a fedella. Madonna mia, bestia di salita. Quella c'è il prossimo è pianto. Speriamo che piova, questi ragazzi gli fa vedere come si guida. Maurizio, ma domani devi fare le strade bianche, che stai a fare? Allora, dormo in macchina che non c'ho all'albergo. Bevo il vino e domani mattina pesavolo pure. Questi come te le devo passare? Ma io compiate le mie in Nater. Allora per questa edizione delle strade bianche 2021, un regalo particolare a Maurizio Morelli. Grazie. Questo è per te. Grazie dottore. Il casco davanti a polla, lo proviamo subito. Lo proviamo subito. Vai. Questo domani allora. Questo domani. Edizione limitata. Ottimo. C'è pure il nome dietro, vero? Certo. Guardate. Spettacolo. Grazie. Buongiorno Maurizio, come stai? Hai dormito? Sto pieno. Grande. Ciao. Wait. Grazie a tutti. Grazie a tutti.